Ballando con le stelle. Chi è la voce fuori camera? Per la prima volta si mostra in video. Ballando con le stelle è noto anche per la famosissima voce che si nasconde dietro le votazioni dei giudici. Ha un volto ed è proprio lui. Il celebre challenge show è tornato da poco sul palinsesto Rai con una nuovissima edizione, e le puntate hanno già riscosso un grandissimo successo. Anche quest'anno ci sono concorrenti che hanno deciso di avventurarsi in questa nuova sfida artistica e di scendere in pista insieme ai ballerini professionisti. I fan non possono intanto fare a meno di restare incollati, ogni sabato sera, al piccolo schermo nell'attesa di assistere alle tante sorprese che il programma ha in serbo per loro. Tra le numerose curiosità che si nascondono dietro il talent, c'è anche quella che riguarda la voce di Ballando con le stelle. Non tutti sanno che si tratta di un personaggio molto noto, che ha adesso deciso di mostrarsi in volto per la primissima volta. Chi è la voce di Ballando con le stelle? Il volto è famosissimo. Colui che interpreta la voce del talent si chiama appunto Foxy John, ed è stato scelto anni fa da Millie College per annunciare le votazioni dei giudici dopo le performance. Nonostante nessuno sapesse chi fosse, c'è da dire che non è affatto nuovo nel mondo dello spettacolo, dato che ha alle spalle diverse esperienze in ambito radiofonico e televisivo. Nato ad Assisi, Perugia nel 1943, l'uomo ha oggi 75 anni e, nel corso della sua vita, ha viaggiato tantissimo per via del lavoro di suo padre, che era un vice console italiano. Si è infatti trasferito, all'età di due anni, a Panama per poi spostarsi a Santo Domingo, a San Francisco e ad Atlanta. Ha inoltre abitato negli Stati Uniti e a Roma, decidendo così di laurearsi in Business Administration nel 1966 ad Atlanta. Dopo aver manifestato contro la guerra del Vietnam, ha insegnato economia, matematica e spagnolo presso il liceo Villarica. Tra il 1968 e il 1975, ha invece lavorato come rappresentante di prodotti di bellezza e si è occupato di pubblicità televisiva. Per questo motivo, è avvenuto il suo primo approccio al piccolo schermo, che lo ha portato a prendere parte a vari progetti della tv locale. Foxy John è apparso per la prima volta nella tv italiana nel 1979, quando ha condotto le Yet Parade e dischi caldi su Rai Radio 2. Ha anche presentato Disco Estate, Disco Inverno e la Festa dell'amicizia, per poi partecipare a Disco Ring su Rai 1, diretto da Gianni Boncompagni. La voce di Ballando con le Stelle ha inoltre prodotto la sigla del Festival di Sanremo e ha iniziato a lavorare per il talent di Millie Carlucci. Un'avventura, questa, che lo ha portato ad essere sempre più amato dal grande pubblico italiano. Ti è piaciuto il video? Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campanella.